Il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere a dicembre 2018 ci sarà l'ennesimo colpo di scena. Si tratta di Rosina Rubio Sandra Marchena, che dopo aver avuto numerosi malesseri riceverà una bellissima notizia. La madre di Leonor dopo essersi preoccupata per la reazione che potrebbe avere il marito Liberto se Leonor e Bob confesserà al suo amato che presto diventeranno genitori. Purtroppo la borghese proprio quando sarà intenta ad annunciare ai vicini di casa di essere in dolce attesa cadrà in preda alla disperazione totale perché verrà a conoscenza che i sintomi che ha avuto sono legati alla menopausa.Una vita il ritorno di Leonor, il timore di Liberto come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate recenti la famiglia Hidalgo ha affrontato un terribile e inaspettato lutto. Purtroppo ha perso la vita Pablo Blasco a causa di una violenta scossa sismica che ha messo a su quadro l'intero quartiere di Acacias 38.Le anticipazioni riguardanti video virgola il mese prossimo ci dicono che Rosina si farà visitare dalla curatrice la valenziana dopo il ritorno della figlia Leonor dato che la giovane rimetterà piede nel suo paese dopo aver trascorso un breve periodo all'isola di Margherita, precisamente nel luogo in cui avrebbe dovuto passare la luna di mele con il defunto marito.La rubio dopo aver avuto continue nausee, vampate di calore, e un ritardo nel ciclo mestruale, verrà a conoscenza di essere in stato interessante.In seguito la borghese annuncerà la novità al marito Liberto che inizierà a temere di non poter essere un bravo padre.Il sospetto di Susana, Rosina apprende di non essere incinta per fortuna il cugino di Leandro dopo l'iniziale pitubanza sarà felicissimo di diventare genitore, mentre Leonor si aggirerà per le strade della cittadina iberica con un ciondolo a forma di cavallino facendo sospettare Susana dato che penserà che la fanciulla potrebbe attendere un figlio da un altro uomo a seguito della morte di Pablo.A quel punto Rosina metterà fine ai pettegolezzi sulla figlia confessando alla sarta di essere incinta.In seguito la Rubio accetterà sul consiglio di Susana di annunciare la sua gravidanza ai conoscenti organizzando un banchetto nella sua dimora.Purtroppo la felicità della borghese durerà poco perché proprio quando accoglierà i vicini di casa accadrà qualcosa che rovinerà il suo stato d'animo.Nello specifico nel corso della festa Rosina rimarrà senza parole perché dopo aver avuto un capogiro apprenderà da Susana di non portare in grembo nessun bambino ma di essere in menopausa. Grazie a tutti!